Veronica Ferraro, Yacht Club Sanremo, ha la prima esperienza con la squadra ICO all'estero. Dacci le tue impressioni? Questa è la mia prima regata ufficiale con l'Italia. È una regata molto difficile, peccato che sia stata annullata una prova dove era andata molto bene, ma a causa di un salto di vento non siamo riusciti a concluderla e quindi è stata annullata. E la sensazione di essere qui con la squadra, con i ragazzi, come ti trovi? È molto bello, è divertente, sono simpatice, mi trovo molto bene insieme. Grazie.